Il buon Guido Bertolaso andrà a lasciare la sua Lombardia, questa bellissima regione ubicata nel nord dell'Italia, per tornare nella sua abitazione di Roma, la capitale. L'ha fatto sapere lui stesso il responsabile della campagna vaccinale proprio della Lombardia, che vi ricordo terrà in piedi l'incarico ma lo farà senza più risiedere proprio il Milano, la città per eccellenza, capoluogo della regione in questione. Un annuncio che è arrivato in questi giorni di tempo, Bertolaso, ex capo della protezione civile, aveva annunciato già che non voleva abbandonare la Lombardia, ma voleva occuparsi di campagna vaccinale da lontano. E così ecco che ha scelto di compiere, ecco che ha scelto di, diciamo così, fare, di andare a realizzare. Detto questo vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, per la relativa visione, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, datemi le vostre opinioni, ci tengono a averle, informatevi pubblicamente, datemi il vostro giudizio. Ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a voi e un buon proseguimento di giornata.